Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video e oggi andremo a vedere il micro picco race francamente possiamo iniziare con due cose allora la prima che il controllo dell'audio è fatto a cristo cristo perché seriamente se tu fai solo che 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 ok ok allora come stavo dicendo se tu fai che l'audio si toglie semplicemente non vale perché cavolo stai facendo ok perché non metti i due indicatori a parte poi l'avevo già giocato prima ma solo in due giocatori quindi stavolta non ho scusa andiamo a vedere un attimo selezionato selezioniamo la nostra vettura e qua posso dire equilibrato da iniziare 3 2 1 2 go 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 aspetta come era no, cavolo che mi fa rivedere le impostazioni no, allora ho spostato un'altra controllo il nitro com'era? ok, si è stato un po' non convenzionale per il nitro però ok 3, 2, 1, GO, GO, GO si se deve carica vediamo se lucirò a recuperare questa gara forse no ma è troppo lontano proviamo GO 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 la volta sta andando, sta andando, it's working working, it's working, it's working, it's working, it's working dai, 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 dai alla fine sono battite minori ammetto che non sto decitando se riesco a sistemare senza il drifting allora è ok vabbè, un achievement per ogni livello mi stiamo scherzando si no inizia la gara prima anche il tempo di vista ale 3, 2, 1 GO 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 mazzo, e che è? Un solo tiro? no e dove è il second point? mazzo, questo è come Daytona ancora possib... neeeh ok credo di aver capito dai 3 2 1 GO 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 what?! ok, era davvero così diversa la vettura che non potevano uscire? ok ok proviamo un'altra vettura 3, 2, 1 GO 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 infatti infatti nell'altra gara hai abbattito subito i time ho messo un po' tutto di nuovo cioè io volevo capire ma questo è davvero per... la cosiddetta Lega Novellini? insomma ma stiamo scherzando dai che è sta roba? 3, 2, 1 GO 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 cazzo di nuovo no, 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 no dove sta 3, 2, 1 GO 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 c'è l'ho grissato l'ho grissato L'ho grissato L'ho grissato Che difficoltà è in essa la patta? Aspetta, drifto me. Drifto... Non stai scherzando drifto come. Ok. Ma chi l'ha testato sto doco? Chi? Scusate. Chi l'ha testato sto doco? 3, 2, 1... Go! E questo è solo il primo giro, eh? Non è che sto avendo problemi proprio tutti in giro. E' il primo! Non importa quale cristo di vettura tutto in mezzo... Non basta. Eh... Che è sta roba? Prendiamo quest'altro che ha più velocità ma le altre specifiche fanno pena. 3, 2, 1... Go! Go! Forse la sfida era proprio disegnata intorno a questa macchina. E capi la macchina giusta dal feeling. Ah... Fuck. Fuck, 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 fuck... Ma che eravamo arrivate al stesso giro... Ma sappiamo come fare... Però! Non è che possiamo sempre... Capirà! Ma a vista quale cavolo di... L'auto va bene per quale evento! Eh dai, questa è l'idea, però No, no! No! Sto arrivando, arrivando, arrivando! Eravamo ventini a farlo! No! 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 3, 2, 1 Go, go, go! No, no! Time extended Time extended Time extended Time extended Time extended Ok, ok. Dove mi assi menti? Questo non è. Ah no, pensavo che eravamo per il seconde. No. Ok, ok, ok. Ok. No, non stanno assi menti per il singolo regalo. Mi sono confuso io per il numero degli assi menti. Beh, non sta davvero molto. Andiamo un attimo alla testa a gara. Guarda che tipo è. Primo posto, ok. Passiamolo tanto. Ah, c'è un 8. Aspetta. 3, 2, 1. Resistere di prima mattina è una pessima certa. Ma è un pedone in mezzo alla piste. Ma stavo scherzando. Sì, è un pedone. Sì, qualcuno ha investito i pedone. Ecco se calma. Vi vedono qua. E ti do più all'ultimo. Er. Si deve essere il drift bar. Quanto è quale sarebbe parte alto. E sape rispitar. Sentai. 3, 2, 1, GO! GO! Go, go! Oh, però se mi fai un DC Punto è Drift. No, vabbè, no, 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 no. No, 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 no. Ma se ritroviamo che abbiamo capito come fare. 3, 2, 1, go, go, go! No, 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 no. 3, 2, 1, go, go, go! Ah, se la va a fare... 3, 2, go, go! No, fuck, 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 fuck Secondo me era meglio multi-trailer sto dopo che è in single Però questo è meglio 3, 2, 1, go, go, go Drift 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 E' andato In questo modo prendiamo la serie Ah no No per me si va per ora Con questo è tutto ragazzi Ci vediamo al prossimo video